Anche nell'estate 2018 i nove lì di Ravennati potranno vantare le bandiere blu della FII. Le nostre spiagge figurano infatti tra le 368 selezionate in Italia quest'anno. L'assegnazione del riconoscimento è stata ufficializzata questa mattina a Roma nel corso di una cerimonia svoltasi nella sala convegno del Consiglio Nazionale delle Ricerche. In rappresentanza del Comune di Ravenna è intervenuto l'assessore al turismo Giacomo Costantini che ha dichiarato la bandiera blu non rappresenta soltanto un riconoscimento per le nostre spiagge e una garanzia per i turisti ma costituisce soprattutto uno stimolo e un impegno a continuare a lavorare sempre di più e meglio per la qualità dei servizi e la sostenibilità ambientale dei nostri lidi. L'importante riconoscimento infatti viene assegnato non solo per la qualità delle acque e dei servizi ma anche per la gestione del territorio, degli impianti di depurazione, per la gestione dei rifiuti, per la vivibilità in estate e la valorizzazione delle aree naturalistiche e per le iniziative di educazione ambientale.